Ma non dimenticare questo, manca la parola io, se prega col tu e con il noi. È un buon insegnamento di Gesù, eh? Non dimenticarlo. Perché? Perché non c'è spazio per l'individualismo nel dialogo con Dio. Non c'è ostentazione dei propri problemi, come se noi fossimo gli unici in mondo a soffrire. Non c'è preghiera elevata a Dio che non sia la preghiera di una comunità di fratelli e sorelle, il noi. Siamo in comunità, siamo fratelli e sorelle, siamo un popolo che prega, noi.